Non lo so, possiamo probabilmente dire che salutiamo la Juventus, è il 2022 della Juventus, nel momento più alto della Juve, da inizio stagione? Probabilmente sì, probabilmente sì, perché il 3-0 la Lazio, per quanto mi riguarda, è totalmente inaspettato. Avevo sensazioni comunque positive, pensavo che si potesse vincere questa partita, con qualche problema, immaginavo una partita tosta, combattuta, sofferta, cosa che invece non è stata, perché giocavano contro la seconda migliore difesa del campionato che aveva preso soltanto un gol in trasferta fino a questo momento e ne abbiamo rifilati tre e secondo me abbiamo anche avuto il controllo della partita, tutta la partita. La Lazio si è dimostrata probabilmente più pericolosa negli ultimi due minuti di recupero piuttosto che in tutto il resto della gara, dove la Juve credo che abbia fatto davvero la miglior partita dell'anno, ma per consapevolezza, per calma, per tranquillità, per gestione, per cose che non si vedevano davvero con Allegri dalla prima parte di avventure dell'Allegri, dal primo ciclo di Allegri, dall'Allegri 1.0. Non si vedevano quelle cose dall'Allegri 1.0, perché stasera veramente sembrava una partita del blocco dell'Allegri 1.0. Con la Juventus, consapevole dei propri mezzi, sicuro dei propri mezzi, sapeva che avrebbe vinto la partita e ce la fa. Allora io vi chiedo un mi piace a questo video, che è l'ultimo del 2022 per quanto riguarda la Juventus, poi parleremo del Mondiale, che in questo momento non mi sta generando hype in nessun modo, proprio quasi pari a zero, però poi ne parleremo perché sono sicuro che appena inizierà, quando inizierà, inizierà ad avere anche un po' di voglia di vedere partite in un certo livello. E vi invito a scaricare il numero 10, perché è vero che finisce la Serie A, la Juventus chiude al terzo posto questa prima parte di stagione, però è vero che continuano anche i contenuti che posterò sul numero 10 e magari qualcosa proprio sui mondiali apparirà pure lì. Scaricatelo gratuitamente, link qui sotto in descrizione. Ragazzi, alzi la mano, davvero, alzi la mano chi immaginava di vedere la Juventus a sei vittorie consecutive, quindi partendo dal derby col Toro fino ad oggi con sei clean sheet, con soltanto sette gol subiti in campionato mi pare in 15 partite. Cioè, alzi la mano chi poteva immaginare di vedere una Juventus a 31 punti in 15 partite, a due punti dal Milan e a dieci punti dal Napoli, al terzo posto alla fine della pausa premondiale. inizio io, non la alzo, non la alzo, perché non me lo immaginavo, non me l'aspettavo e quando c'è da dire bravi c'è da dire bravi, c'è niente da dire. Quindi sono veramente contento, soddisfatto, orgoglioso di vedere che si è rialzata la testa, di vedere che è cambiato qualcosa, di vedere che non era più accettabile quello che era accaduto fino a questo punto, fino al momento in cui veramente siamo arrivati a provare vergogna e la parola usata da Agnelli è stata molto pesante perché se il presidente dell'Avventus inizia a parlare di vergogna significa che le cose andavano veramente molto, molto male e si è passati dal provare vergogna fino al poter dire ora ci siamo anche noi non per lo scudetto probabilmente, ma perché per lo scudetto a parte il Napoli non c'è nessuno secondo me fino a questo momento però essere lì in questo momento è sicuramente un motivo di orgoglio perché la Juventus non poteva essere quella che era stata fino a quelle partite terrificanti poi c'è l'eliminazione della Champions e quella pesa peserà, porterà via dello spazio, occuperà posto e rimarrà un vero e proprio fallimento stagionale non mi va giù, non mi andrà giù perché quando poi finirà il Mondiale tornerà la Juve, tornerà il calcio, i club rosicherò tantissimo nel pensare che mentre tutti si prepareranno agli ottavi qui in Italia noi ci prepareremo a giocare contro il Nantes però è andata così e almeno la Serie A, almeno il campionato dovevi cercare di raddrezzarlo e l'hai fatto e in questo momento lo stai facendo non sempre con delle partite perfette, non sempre con delle partite convincenti non sempre con delle partite nel complesso, giocata alla perfezione si può sempre migliorare per quanto mi riguarda nel calcio ma stasera, stasera c'è stata una Juve che pressava in avanti una Juve aggressiva, una Juve che sull'1-0, 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 sul 2-0, sul 3-0 continuava a dimostrare di voler attaccare una Juventus che continuava a dimostrare di voler divertire e divertirsi probabilmente una Juventus che capiva anche il momento e diceva e vabbè qua ci vediamo tra quasi due mesi, ci rivediamo a gennaio e quindi dispiace no, non essere più sul pesto tutti insieme cerchiamo di regalare una gioia ai nostri tifosi e l'ha fatto, e l'ha fatto perché lo dicevamo prima in live stasera è stato esattamente l'opposto rispetto alla filosofia cortomusista applicata alle partite perché sapete bene che il cortomuso non nasce per la partita nasce per la classifica però se vogliamo applicare quella filosofia alla partita è 1-0 mi accontento stasera è stato decisamente l'opposto e l'infortunio di Kostic e l'ingresso di Chiesa largo nella difesa 3 quindi nei 5 va in quella direzione lì perché un cambio super offensivo che fai sul 2-0 è vero, non c'era nessun altro a poter mettere si poteva cambiare assetto eppure si è optata una scelta coraggiosa si è voluto fare una scelta coraggiosa e questa scelta ha pagato pagato perché poi è arrivato anche il terzo gol proprio da Federico Chiesa l'assist di Federico Chiesa magari il gol di Federico Chiesa già mi sono commosso con l'assist di Chiesa lo vedrete poi nella live reaction ma stasera stasera questa è la cosa più bella che ci si possa portare a casa al di là della sesta vittoria consecutiva al di là del sesto clean sheet consecutivo al di là della miglior difesa del campionato al di là dello scontro diretto vinto al di là della terza posizione in classifica io stasera mi porto a casa questo cambio di mentalità e di atteggiamento questa è la cosa più importante in assoluto e avviene con delle scelte forti perché anche questa sera Bonucci va in panchina e non la gioca e gioca a gatti e queste sono cose per quanto mi riguarda coraggiose e che mi piacciono e anche stasera gioca a fagioli scelta coraggiosa chi mi piace meritocrazia sta meritando gioca sono scelte che vanno nella direzione della continuità ancora una volta il 3-5-2 ancora una volta con Bremer centrale che ti permette di giocare queste partite qui perché Bremer pressa in avanti attacca attacca difendendo Bremer quindi queste partite le fa giocare Bremer Alexandro è squalificato benissimo allora gioca a gatti Danilo su centro-sinistra ancora quelli esterni perché quelli ci sono centrocampo confermato attacco confermato perché col Verona Moise Ken l'aveva sbloccata e stasera ti fa doppietta e che partita di Moise Ken quindi primi segni di continuità primi segnali di continuità primi segnali forti di cambi delle gerarchie e queste sono cose molto importanti perché alla Juventus erano anni che non si cambiavano queste gerarchie che si respirava questa quest'aria stagna quindi anche qui qualcosa è cambiato va bene rispetto per quello che è stato per determinati giocatori ma se in certe partite non sono più in grado di dare quello che una volta davano fanno un passo indietro non è un caso che con l'Inter e con l'Alessio che sono le due partite più pesanti che abbiamo affrontato in queste sei in Serie A abbia giocato Bremer al centro di difesa e non Bonucci addirittura Bremer appena recuperato con l'Inter buttato dentro in campo e perché ti permette di fare delle partite differenti perché Bonucci non ti permette più di fare quelle partite lì e infatti proprio da Bonucci voglio ripartire non è un video anti Bonucci non è un video contro Bonucci ci mancherebbe altro però sono considerazioni che vanno fatte sono importanti non prendiamo gol dal 3 a 1 del Milan gol di Brahim Diaz dove Bonucci lo lascia andare no? ricorderete ecco ancora una volta giochino di prima alzi la mano alzi la mano chi a quel gol di Brahim Diaz avrebbe scommesso di ritrovarsi poi vicinissimi al Milan e attenzione forse si poteva essere addirittura sopra perché oggi il Milan la vince al 92esimo anche con un episodio un po' contestato secondo me è difficile analizzare quell'episodio non voglio entrare nel merito perché è oggettivamente complicato analizzare quell'episodio lì poi io non dico anche che ma contro i miei interessi sono per il favorire lo spettacolo nel dubbio quindi probabilmente avrei assegnato il gol però poteva essere annullato come no ma questo non ce ne deve fregare niente ci deve fregare il concetto che il concetto è che in quel momento lì in cui Brahim Diaz fa il 3 a 1 alzi la mano chi avrebbe immaginato di trovarsi in questa situazione in Serie A e alzi la mano chi avrebbe immaginato di ritrovarsi a finire il 2022 con quel gol lì come ultimo gol subito in Serie A nessuno ma probabilmente nemmeno dentro la Juventus ma nemmeno Allegri stesso ma nemmeno i calciatori allora ditemi che il gruppo non conta qualcosa in questo sport ditemi che la testa non conta qualcosa in questo sport perché i calciatori sono sempre quelli l'allenatore è sempre quello qualcosa è cambiato io forse oggi non so dirvi nemmeno cosa la grande differenza che vedo è che adesso a tutti interessa di più lottare vincere la partita e onorare la maglia a tutti da chi scende in campo a chi prepara le partite e quindi fa scelte differenti a chi non toglie la gamba nei contrasti anche se deve andare al mondiale perché io stasera non mi immaginavo sicuramente una partita dilagante della Juventus se nemmeno una partita aggressiva perché pensavo ci sono 2-3 giocatori che magari vanno in campo e dicono sì ma io domani parto allora magari la tolgo per dire Rabiot cioè Rabiot fa anche l'assist fa anche l'assist per 1-0 e che assist che fa Rabiot per 1-0 per il gran gol di Moise Ken incredibile ragazzi il calcio è ma lo sport in generale perché lo sport è così bello amato seguito poi il calcio è il più seguito al mondo perché perché regala delle storie scrive delle storie che sono quasi impossibili illogiche non c'è un briciolo di logica in tutto quello che sta accadendo e quindi davvero alzi la mano lo dico per la terza volta che poteva immaginare un epilogo differente un epilogo simile e uno differente io sono il primo in prima fila che non poteva immaginarselo è tutto perfetto tutto risolto siamo guariti la risposta è ancora no mi dispiace ancora no rimango ancora con i piedi ben saldi a terra per un motivo non abbiamo ancora fatto niente non abbiamo ancora fatto nulla un cazzo perché come potete vedere bastano 6 partite fatte bene 6 partite fatte male cambia il mondo cambia il mood cambia l'umore cambia la classifica e ben giocate soltanto 15 ce ne sono ancora tantissime ce ne sono 23 ma saranno nell'anno nuovo e quindi buon fine campionato a tutti ne parleremo della situazione Allegri della situazione Juventus del calciomercato del mondiale ne parleremo ma questa sera si va a letto contenti soddisfatti e finalmente ancora una volta orgogliosi di rivedere la Juventus con il musola tra le prime del campionato perché ora sono convinto ne sono veramente convinto siamo tornati antipatici e siamo tornati a essere fastidiosi nei confronti delle altre che in questo momento ci guardano in una maniera diversa rispetto a qualche settimana fa dove ci prendevano tutti per il culo aggiungo ce lo siamo meritati di essere lì cazzo forza Juventus grazie a tutti